ah ah, è vero? perché ho detto che sono giudici prezzi no, perché sono giudici no, ma dai no, ma non è una cazza in carica è un cazzo perché c'è un cazzo da me, ma non è una cazza che c'è un cazzo da me, ma non è una cazza è un cazzo a poco è un cazzo va a curta prendere un cazzo non è una cazza ma anche è un cazzo non è un cazzo non è un cazzo è un cazzo l'accusa, non è un cazzo a a a a a a a a